La birra che assaggiamo oggi è questa New Age di Birrificio Lariano. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, birrificio lariano, birrificio italiano, precisamente siamo a Lecco. Si chiama New Age questa birra e è una session IPA. Grado alcolico 4,4 gradi, prezzo ora non mi ricordo dove l'ho acquistata ma mi ero segnato il prezzo, l'avevo pagata 4 euro, credo su qualche sito online ma mi sfugge davvero, ora non ricordo dove. Il bicchiere consigliato appunto è una pinta, si tratta di un primo assaggio non ho mai assaggiato questa birra, anche se ho già bevuto altre cose di Lariano tutte devo dire molto molto buone, ma questa New Age non l'ho ancora assaggiata. Allora, il tappo è giallo con il logo di Lariano, il font, questo font che ricorda un po' uno stile un po' classico, un po' medievaleggiante, con scritto birrificio artigianare Lariano. Il tappo è uguale per tutte le bottiglie di questa linea di birrificio Lariano. Sull'etichetta i disegni cambiano, lo stile grafico è sempre lo stesso, sono due disegnatori italiani se non erro, avevo letto online e cambiano però gli animali disegnati, su ognuna c'è un animale qui c'è su questa New Age un avvoltoio americano, quelli con il collo nudo avevo assaggiato poco fa la felina, c'è su un gatto, la statale 52, c'è su, credo ci fosse su una lepre, se non ricordo male, un coniglio, insomma ci sono diversi animali sulle loro bottiglie. Qualche informazione in più, il logo di produzione, birra artigianale non filtrata, non pastorizzata e senza conservanti, viene riportato sull'etichetta. Interessante, riporta i gradi plato, quindi riferiti alla densità di questa birra e ovviamente i gradi alcolici. Ok, apriamo questa bottiglia. Allora, limpidissima, anche se c'è un fondo che si è sollevato appena ho inclinato la bottiglia lascio dentro quindi un po' di finale proprio per non mandare il lievito all'interno del bicchiere. Allora, partiamo da un'analisi visiva di questa birra, una schiuma bianca, compatta, abbastanza fine, molto regolare come vuole. Il colore della birra è un giallo paglierino, non molto acceso ma comunque molto molto limpida. E vediamo un po' il naso. Allora, al naso le due cose principali che si sentono subito fin dall'inizio sono una parte fruttata, direi che siamo verso frutta tropicale, forse ananas comunque in quella direzione. Sì, e poi c'è una parte anche di agrumi, sempre per quanto riguarda la famiglia, diciamo, dei descrittori olfattivi della frutta. E poi si sente un pochino minore come intensità una parte legata ai luppoli. Luppoli direi non troppo invadenti ma siamo nella direzione dei luppoli resinosi. vediamo anche in bocca. Molto interessante, molto molto interessante questa birra. Allora, se esce un ipa ma molto delicata e questa secondo me è una cosa davvero molto molto buona. Allora, incominciamo con una bella apertura maltata, non eccessivamente dolce, molto delicata. Infatti è una birra davvero beverina e ho già voglia di perne un altro sorso. Questa apertura appunto maltata molto delicata ovviamente lascia spazio come in tutte le ipa, come deve essere in tutte le ipa, ha una buona parte luppolata. È un luppolo non eccessivo, molto comunque persistente. Tuttora continuo a sentire questo bel fondo amaricante. È un corpo molto leggero e una bella frizzantezza. Frizzante va d'accordo anche con amaro, soprattutto su queste birre molto facili da bere, molto molto beverine. Che dire, è un'ottima birra secondo me, è una bella esperienza. Questo equilibrio appunto tra malto e amaro è un po' spostato verso l'amaro, ma giustamente stiamo parlando di una ipa, anche se sessioni, ma comunque siamo nello stile delle ipa. È molto semplice da bere, l'alcol non si sente assolutamente, solo è una birra perfetta per l'estate secondo me. Scal. Scal. Grazie a tutti.